5 nemici neutralizzati Attacco efficace Attaccano il bersaglio Il primo bersaglio prioritario è storia Il bersaglio prioritario non è compatibile Il bersaglio prioritario sotto attacco Innesco un'adesiva Si incolterra Bersaglio prioritario nemico trova Non muoio Confermo eliminazione limite Siamo in vantaggio ma restate concentrati Bersaglio non è Bersaglio prioritario abbattuto Occhio Attaccano il bersaglio Il nostro bersaglio Il nostro bersaglio L'impulso rilevatore in attesa R-C-X-T Attivazione impulso rilevatore Bersaglio prioritario alleato in zona Proteggetevi Bersaglio prioritario nemico trovato Attaccano il livello Bersaglio Bersaglio Oil